Il traffico si sta intensificando in A11 tra Prato Ovest e l'allacciamento con A1 in direzione Firenze, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Stessa cosa in Fibili tra La Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, in via di Novoli a Firenze è in corso la sostituzione del cordolo di delimitazione della pista ciclabile, previsti restringimenti di carreggiata a tratti e la chiusura della pista tra via Pertini e via Valdipesa fino al 15 settembre. Infine per i traghetti la corsa da Piombino a Portoferraio via Cavo delle 8.40 è stata cancellata per il maltempo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!